musica 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 bene ragazzi siamo i granas e siamo tornati con un nuovo gameplay dove sta andando? qua e come avete visto siamo su 2 players 1 k ah è vero siamo con la k ma che cazzo ti muovi così? eh non ti preoccupa tu devi mirare lo so che devo mirare ma se non c'è la gente dove miro? vabbè tu mira ogni tanto perchè devi avere questa metà passi di cream oh 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 sta dieti ma l'hanno ammazzato dai si vabbè sta dieti sopra 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 ah cia mamma mia che culo vai oh 2 che doppia aspetta torna indietro torna indietro torna indietro ma gira però se devo tornare indietro puoi tornare indietro anche ok ragazzi io vi dico di passare sulla pagina facebook e mettere un mi piace vai con i quick mamma mia oh vabbè c'è il salato puttanella oh no no va mamma vai eccolo 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 sta qua dai dove? eh non lo so non ho idea si sono persi non c'è più un avversario benissimo dietro dietro dai sono tutti qua vedi qua porca puttana e gira pure te però ho capito come tu hai detto vai no dietro sconti te qua mira mira si tu non puoi non prendere neanche un colpo figlio di troia vai ricarica 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 ricarico oh vabbè che attività che ci abbiamo ma davvero destra destra ma no che destra ma no vai destra ancora fila destra ma sinistra ma sinistra fai così ma che forti ducca perchè vai di qua ma sta zitto non ti preoccupa fino a mossa manda bene vaffanculo vaffanculo eh vido del merda eh porti sfiga cazzo figlio di troia figlio di di sparta mamma mia ci ho pensato troia per fare una battona del merda no che tu cazzo vai perchè così tu lo trovarò davanti si ovvia vita dietro è tanto semplice ma no muore comunque vai tu lo hai dietro tu laia si un cap tu laia si un cap e tu laia si un cap e tu laia si un cap stabile fai ah non c'è granata non c'è nulla senti fammi una cosa cambiamo dai dai aspetta metà partita dai stavamo a bene stavamo a 6-3 mira sempre no oh 100 punti nemico corpo a corpo da così 100 punti io da troppo che non gioco a COD e quindi moriremo adesso probabilmente no non c'è nessuno mamma mia hai rischiato di cadere perchè stai uscendo dalla torna su vai 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 sul teschio vai sul teschio coglione puoi anche mirare mamma mia le direttive scenic boom cazzo gira 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 qua andiamo qua e buttare gli improvvigionamenti no ma cambia al volo dai no 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 che mua improvvigionamenti di voi vi attengo fammi capire oh ci stai a sparare vai vai qua no vai improvvigionamenti cambio 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 lo butto io e cambiare ma che cazzo fai tu cazzo 2 aspetta oh dai che sfiga mamma mia che pippa così così che cazzo fa ma che incrociano e sei scemo vai do cazzo miri ah è vero io non so più che fa qua cosa di prima ma sensibilità è un po' alta eh lo so sei stupido ma sei stupido ma che puoi da me che puoi fare che puoi fare che puoi fare non hai capito si deve mocastrare con i coglioni guarda te te mi rovina una partita così no guarda serie d'uccisione non la faremo male sta dietro comunque come devi girare dove qua da qualche parte stanno qua dai gira qua tu devi girare non io io vado tu cammina eh bravo corri oh tranquillo mamma mia perché ci devo aver fiadone in se sa come se correre ci tie capito sei micro pure sul gioco una cosa incredibile ovvio dove cazzo no 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 che sopra qua sta vaffanculo ce ne stanno due sopra non c'è qualcosa non può lanciare niente salimo dai salco un nemico brigate chi dice niente vaffanculo ritorno giù giù quanto è scomodo ma si abbassa pure ma chi è ma chi è mamma mia che mostro che muore da dietro così vai eccolo ce la vuoi fare cioè mi sono dovuto spostare io capito ma pure te è stata l'insibbiato l'orto cambiala si no 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 sta qua si si guarda c'è una colonna davanti ci sta proprio certo così gira 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 oh ma mori ma poi dicono che ghost c'ha la vita a boke eccolo mazza pure mentre li guardavo comunque ah perché devi perché devi fare cazzare mamma mia comunque non abbiamo abbastato il volume si si tirate in bombo si probabile vai sopra sopra mira scusa quanto era pippa quello fatto vai da adesso non si senti più in bombo anche se è finita la partita però vabbè vai mamma mia ma alza sta mira no pure te però mira ma io mi la do da subito eccolo cazzo cazzo ti sporgi ma io mi sporco ma no te sporco tu ti sporgi tu sei sporco qui tu sei lezzo vai vai oh 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 youtube vai oh però corri mamma mia mi fai venire i nervi oh 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 non fai ride lo so che ci temo fa co sto coso vai vai eh si vai che cazzo ti ricarichi hai sparato un copo già siamo bravissimi da soli a fare quick vai ancora siamo già bravi da soli a fare quick che poi quando fai in due è ancora più facile è più divertente gira dall'altra parte stiamo tutti da qua ma vai indietro vai indietro vai dentro qua vai sopra cammina devi girarti tu perché io non voglio andare qua si che forza mia facciamo il cecchino per forza vai mira subito oh mamma mia quanto sei scarso vabbè ma pure te ma che cosa mi miri non mi devi mirare subito ma comunque devo mirare subito a destra tranquillo vabbè anche finita dai famo l'ultima kill no passo ok comunque è sì questo è mio di me è fluido e niente niente dai grano non è su tutto ma poi questi ne eravamo l'ultima no cazzo da questa chicca me è tutto noi ci vediamo a rosso bella a tutto il è l'ultima